Bucche e avallamenti In principio, le strade in dissesto sono spesso il risultato di perdite della rete idrica e fognaria. Per Abanoa, al contrario, si tratta di problemi di carattere geologico, che dunque esulano dalle loro responsabilità. A fare le spese in ogni caso sono gli utenti della strada, automobilisti e motociclisti, impegnati ogni giorno ad affrontare percorsi e ostacoli e gincane per evitare le mucche. Intanto, si ocana al comune le richieste di risarcimento per i danni causati alle vetture o alle persone dalle strade dissestate. Grazie.